Ciao, sono Coso, il barman Mattacchione, e ora vi racconto una barzelletta. Giuseppe e la Lori sono tornati dal viaggio di nozze. L'ho preso al volo prima che cambiasse idea. Sì, come si chiama? Tipo Coso, come si chiama? Coso, Coso, il barman Mattacchione, che racconta le barzellette preparando i cocktail. Io, Giuseppe, prendo te, Loredana, come mia sposa. Ti prometto di essere tutte le sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.